Gol, parte molto bene Marquez, Marquez, Lorenzo, Smith, Pedrosa, poi Polespargarò, Valentino Rossi, tovizioso Rossi alle spalle di Pedrosa, Rossi dentro Pedrosa Rossi passa su Smith E Rossi ancora anche su Polespargarò Piannone, ha preso Pedrosa, ha preso la ruota posteriore della moto di Pedrosa Fuori Pedrosa, si ferma Pedrosa Eccolo, eccolo, all'interno Rossi, all'interno Rossi Lorenzo alla staccata della 1 Ripassa davanti, Valentino Rossi